E allora tornati vicino all'isola un punto vuoto ottenuto il telecomando ragazzi andiamo a fare la missione Sembra tipo una delle missioni di GTA 4 Dove va in una cosa così a stanare degli uomini di Dimitri bellissimo ma delle mie missioni preferite penso sia verso il finale sapete Stai tranquilla devo ancora riattaccare la corrente e trovare l'ingresso a presto Non dovrebbero esserci pericoli per ora Qua una volta completato credo che ci guadagneremo il rifugio forse penso Bellissimo una telecamera disegnata burloni Allora c'è da trovare il modo per andare su O forse no Ma quindi ci piacciamo oppure no oppure no Vediamo dove andare Attiva lassù Oh c'è l'ascensorino ok ok c'è sempre una soluzione a tutto ragazzi Basta portare pazienza Cos'è La tua chiavata Ora la mossa sta a te Voglio solo sottolineare che ho già fatto la cosa dell'auto quindi lascia in pace la mia bimba Per favore Ok il punto è che io devo Sfondare quelle barriere E non è una cosa facile Perché sono quelle col filo spinato Forse così Forse così Forse così Forse così Forse così Ok ce l'ho Ce l'ho Questo funziona Funziona Sei un coglionazzo Ma super coglionazzo Qua c'è della roba Una granata Fantastico Per fortuna non mi comporta sprechi di batteria questa cosa La mia premura di fare le cose Praticamente prima di completare quella prima Ho sempre avuto sto vizio di merda Cioè aspetta che arrivi No Devo subito salire Allora attiva A dirsi è facile A farsi un pochino di meno Non c'è una possibilità Se vado di qua No Questa ragazzi preparatevi perché sarà una missione piuttosto stronza e lunga Il punto è che sto stronzo spunta da qua No Se mi butto di sotto muoio Palese Qua sopra Aha Lo sapevo Lo sapevo troppo Bastardo Ah ok Sblocca E uno lo andiamo ad attivare adesso Niente cazzi Basta cazzi Esplosione E giù Mmm rischioso Attiva E qua allora Usiamo quel L'ascensore che avevo visto prima Posso anche tornare indietro eh Tiri una leva Il pavimento si abbassa E scendi fino a una base segreta Sott'acqua Siamo su un'isola Sarebbe bello Allora su In uno degli edifici Vado a cercare Fammi morire Ok Una l'abbiamo portata a termine Andiamo alla seconda Se questa era la più facile Andiamo bene Questo non è valicabile Quindi già Partiamo in svantaggio È in svantaggio Dei Zayichit Allora Qua c'è una gru Può essere usata Non lo so Sì Può essere usata Vediamo per cosa però Se ci carico la moto sopra Per questo Ok Ce l'ho Ce l'ho I got it I really got it Su Su Sono un genio Sono un cazzo di genio Sono un genio Figa Certo che Aspetta 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 Allora prendo l'ascensore E vado giù Vabbè Qua posso anche scavalcare Non c'è Qualcosa da Hackerare Quindi lo attiviamo così Ancora un generatore Da far fuori Ci sono quasi Devo rifare tutto il percorso Al contrario Se faccio un casino Toglimi il patentino Da hacker Hai davvero un patentino Da hacker Tu facci entrare E un giorno lo vedrai Forse Che stronza Ok nel caso Rifacciamo tutto il percorso Al contrario Safe and sound Sani e salvi Ok la nostra fedele moto Bellissimo sto salto Signori E qua i nodi Vengono al pettine Perché qua Sono cazzi Vacca bestia Questa era una città Veramente per pochi Per castiglia Salire sui container Non credo mi porti a qualcosa Anche perché sono troppo distanti Uno dall'altro C'è da hackerare il cancello Se io abbasso la gru Anzi Le gru Telecamera Cazzo è lì sotto Telecamera Ok ce l'ho Alzi La gru Zoomi E sblocchi Bene così Sono un cazzo di genio Genio del male proprio Però non abbiamo finito Voi credevate che avessimo finito Ma in realtà Non è così Allora sicuramente Quelle gru Qualcosa servono Una è servita per sbloccare L'altra Servirà per forza Per fare altro Vero Quella addirittura Si sposta così Midico Ok Mi dispiace per la moto Che mi tocca abbandonarla Però A volte c'è da fare alcune scelte Nella vita Non mi schiacciare contro Non mi schiacciare Ok Ma è già aperto Si è già aperto Che bello Tre generatori su tre A posto Rifugio sbloccato L'avevo detto ragazzi Che avremmo sbloccato il rifugio Non ti piantare Ho sentito il sistema Che tornava online Aspettati Perché Ed è tutto sicuro È abbandonato da molti anni Voglio vedere la tua faccia Quando si apre la porta Audio diario Non si sa mai Hai trovato il mio file Mi ero abituato Alla pioggia di uomini A tempo pieno Nel bunker E nella tua auto E nel tuo lettore MP3 In ogni negozio In cui andavi Se vuoi la canzone Sarò felice di copiartela Tocca a te Ok Adesso ci porta giù Tipo sottoterra L'aveva detto Clara All right It makes sense Makes a lot of sense E giù Anzi no Dentro proprio Lo stabile Fighissimo Bellissimo Cerca il pannello Della corrente Intanto cariamo questo Stronza Nessuno deve sapere Almeno affinché L'ho finito Ma certo Quanta roba c'ha qua dentro Un casino Dai corrente al bunker Si trova sopra Quando qualcosa sta sopra È sempre ben accetto Denunciatemi adesso Chiedete il video Discrivetevi Dopo quello che ho appena detto Perché È grave Ma porca puttana Pare che la Bloom Abbia preso l'hardware Ma Sono i collegamenti La parte davvero importante Vuoi Possono trovare Questo è a un posto sicuro Per sua natura Introvabile e inviolabile Ma noi ci stiamo provando Da dove viene Questo indirizzo Dal distributore di benzina Cosa ha di tanto Yes Come ha fatto Damien A trovarlo Eppure è ben nascosto Non lascia mai Porte aperte Sembra che provenga Dal quartiere Rossi Frimo Territorio Visua Ecco Le telecamere Potrei dare un'occhiata dentro Puoi collegarci No È completamente fuori dalla rete Davvero Strano Se non posso collegarmi da qui Andrò dritto alla fonte Sistemerà tutto Prima che torni Ebbene così Missione Direi completata Corrente al bunker c'è E ne possiamo uscire Esattamente così Un punto vuoto 500 xp E puntabilità Ma ne abbiamo 4 E quindi non serve a niente Tu continui a darmi i contratti da fixer Quando No 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 Zio no No Voglio salire sulla moto Vabbè Continui a darmi i contratti da fixer Quando mi serve in realtà L'ultimo convoglio criminale Però va bene Però va bene Allora 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 Allora